Abbiamo sicuramente questa mattina la necessità di denunciare un fatto che per quanto ci riguarda di estrema gravità, quello di avere a disposizione circa un miliardo di opere già finanziate sulla nostra regione, che vanno da finanziamenti per l'edilizia giudiziaria, l'edilizia scolastica, opere infrastrutturali importanti per la nostra regione e non sto parlando né di risorse del PNRR e neppure di risorse della nuova programmazione. Sto parlando di risorse messe a disposizione dallo Stato per le nostre comunità e rispetto al miliardo investito, a disponibile, sono stati investiti soltanto l'1% di quelle somme. Per noi questo è un atto grave, non soltanto perché ovviamente impedisce la creazione di nuovi posti di lavoro, noi abbiamo fatto un calcolo che l'investimento di quelle risorse produrrebbero circa 5 mila posti di lavoro immediatamente nella nostra regione, che per noi è davvero importante, ma soprattutto impedisce alla nostra regione di mettere in piedi iniziative di natura infrastrutturale che possono diventare importanti, attrattive, migliorerebbero le condizioni dei cittadini, attraverrebbero le imprese, migliorerebbero le condizioni di sicurezza dei nostri ragazzi all'interno delle scuole, consentirebbero anche di una fruibilità della giustizia maggiormente efficiente e lo diciamo perché siamo preoccupati rispetto a quello che può avvenire in futuro. Noi siamo alla vigilia della nuova programmazione dei fondi comunitari, in Puglia nel mezzogiorno arriveranno le risorse del PNRR, non soltanto quelle, ma se noi non riusciamo a spendere le risorse già a nostra disposizione, dalla vecchia programmazione, degli investimenti che sono stato fatto con le varie misure, io temo che non risponderemo alle tante esigenze dei cittadini pugliesi.